Il Forum Economico Mondiale di Davos si apre questo mercoledì in un contesto internazionale che sottolinea le disuguaglianze economiche e sociali. Le elite del mondo sono chiamate a interrogarsi anche su come dare risposta alla sfiducia crescente nei leader politici. Alla vigilia dell'apertura del forum sono stati assegnati premi a celebrità che hanno mostrato un impegno esemplare per migliorare il mondo. Tra loro Leonardo Di Caprio. Il mese scorso a Parigi i leader mondiali hanno raggiunto uno storico accordo che fornisce un quadro concreto sulle emissioni di CO2. Questo è un primo passo importante ma siamo ben lontani dal dichiarare vittoria nella battaglia per il nostro futuro e per la sopravvivenza del nostro pianeta. L'accordo di Parigi è stata una chiamata all'azione, ora aspetta a tutti noi costruire questo progresso con ingegnosità e con l'impegno a cambiare. Tra i premiati anche l'attrice cinese Yao Chen, l'artista Olafur Eliasson e il cantante e musicista dei Black Eyed Peas Will I Am. Oltre 2.500 leader dell'economia, della politica e della società civile parteciperanno al forum strutturato in 250 sessioni di lavoro e che si concluderà il 23 gennaio.